16 agosto 2014, Valle Pellina, rispettivamente Valle di Ollomont, allora la gita si è svolta, qui siamo a rifiugio ammiante 2979, ecco qua, è nevicato stanotte, ieri vedete ancora la neve, lì c'è la test Blanche, che oggi dovrò per la seconda volta rinunciare, allora sono partito da Glacier e traversando quel lago e tutta quella dorsale salendo in un ripido pendio qui, ancora con qualche spruccio di neve, sono arrivato qui a questo rifugio, eccolo qui l'amiante, in cui ero già stato nel 2009, allora tutte le volte che io, cioè la seconda volta che vengo a questo rifugio, il tempo è sempre in clemente, vedete qui ancora tutto coperto, fa freddo, allora il tempo impiegato da Glacier a questo rifugio è stato due ore e quattordici, a dopo, 16 agosto 2014, dal rifugio ammiante del 2700, 2979, un saluto alla prossima, ecco la seconda volta che vengo qui, mai una volta che trovo bello lì fa, ho, 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 ho